ciao a tutti e benvenuti nel canale idea uncinetto nel video di oggi realizzeremo insieme una presina è un lavoro semplice e veloce da fare adatto soprattutto alle principianti io appunto l'andrò utilizzare come una presina ma può essere utilizzata anche come un sottopiatto un sottopentola per questo progetto ho scelto di lavorare con vari colori ho scelto appunto il grigio il viola il color senape il rosa e il bianco l'uncinetto di lavorazione sarà il 3 e mezzo detto questo direi di iniziare con il video di oggi avviamo la lavorazione con un anello magico dove al suo interno lavoreremo 3 catenelle rientro all'interno dell'anello magico e lavoro la seconda maglia alta rientro e lavoro la terza rientro lavoro la quinta procedo lavorando 24 maglie alte all'interno dell'anello magico lavoro le mie 24 maglie alte e poi ci rivediamo lavorate le 24 maglie alte all'interno dell'anello magico stringo la codina e mi chiudo nella prima maglia disponibile con una maglia bassissima quindi entro nella prima catenella lavoro un punto bassissimo in questo modo abbiamo terminato il primo giro io ho tagliato il filo vado utilizzare un altro colore quindi procedo lavorando con l'altro colore lavoro in questo modo lavoro come sempre il cappio entro in un punto qualsiasi e lavoro le prime 3 catenelle quindi 1 2 e 3 catenelle lavorate le 3 catenelle lavoro più una filo sull'uncinetto entro nella maglia successiva e lavoro un punto alto una catenella maglia successiva 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 un punto alto procedo lavorando una catenella e un punto alto in ogni punto di base al termine ci ritroveremo con 24 maglie alte con con una separazione di catenella procedo lavorando in questo modo e poi ci rivediamo termine giro lavorando l'ultimo punto alto nell'ultimo punto alto lavoro una catenella e mi chiude nella terza catenella con un punto bassissimo e in questo modo è terminato il secondo giro taglio il filo e procedo lavorando il prossimo giro con un altro colore prendo l'altro colore lavoro entro in un punto qualsiasi quindi in un punto alto lavoro come sempre 3 catenelle che sono appunto il primo punto alto rientro nello stesso punto lavoro la seconda maglia alta filo sull'uncinetto rientro e lavoro la terza maglia alta lavorate le tre maglie alte salto la catenella entro nel punto alto successivo e lavoro un punto basso filo sull'uncinetto entro nella maglia alta successiva e lavoro 3 maglie alte 1 2 e 3 maglie alte maglia alta successiva un punto basso filo sull'uncinetto maglia alta successivo lavoro 3 maglie alte 1 2 e 3 punto alto successivo un punto basso filo sull'uncinetto maglia alta successiva vado a lavorare tre punti alti punto alto successivo un punto basso di nuovo il punto alto successivo lavoro tre punti alti 2 e 3 e 3 punto alto successivo un punto basso terminiamo il giro in questo modo quindi lavorando tre maglie alte nello stesso punto e un punto basso nel punto alto procedo in questo modo fino al termine termine il giro lavorando il punto basso e mi chiudo nella terza catenella con un punto bassissimo arrivato a questo punto posso tagliare il filo e procedere con il prossimo colore prendo il prossimo colore inizio la lavorazione nel punto basso quindi entro in qualsiasi punto e li vado a lavorare 3 catenelle 1 2 3 che sono il mio primo punto alto rientro lavoro la seconda maglia alta rientro lavoro la terza rientro lavoro la quarta quindi lavoro quattro punti alti mi ritrovo il ventaglietto di 3 maglie alte salto il primo punto alto entrò nel secondo il lavoro un punto basso di nuovo nel punto basso lavoro 4 maglie alte 12 3 e 4 nel punto basso nel nella seconda maglia alta del ventaglietto entro il lavoro un punto basso di nuovo nel punto basso lavoro 4 maglie alte 1 2 3 e 4 e nel ventaglio di 3 maglie alte entrò nella seconda maglia alta lavoro un punto basso filo sull'uncinetto nel punto basso rientro il lavoro 4 maglie alte 1 2 3 e 4 mi ritrovo il ventaglio di 3 maglie alte entrò nella seconda e lavoro un punto basso di nuovo nel punto basso lavoro le quattro maglie alte 2 3 e 4 mi ritrovo il ventaglio di 3 maglie alte salto la prima entrò nella seconda e lavoro un punto basso procedo in questo modo fino al termine del giro ho terminato il giro e procedo la lavorazione con l'altro colore dove appunto inizia la lavorazione sempre con un cappio entro all'interno del punto basso e vado a lavorare questa volta 5 maglie alte quindi come sempre lavoro 3 catenelle filo sull'uncinetto rientro lavoro la seconda maglia alta poi lavoro la terza poi la quarta e poi la quinta quindi ho lavorato cinque maglie alte lavorate le cinque maglie alte appunto poi vado a lavorare il punto basso quindi salto la prima salto il secondo punto alto entro nel terzo lavoro un punto basso salto le le prossime maglie e rientro direttamente nel punto basso e li vado a lavorare le cinque maglie alte quindi 1 2 3 4 e 5 salto le due maglie nella terza lavoro un punto basso filo sull'uncinetto rientro il punto basso e vado a lavorare le cinque maglie alte quindi 2 3 4 e 5 di nuovo salto le due maglie nella terza un punto basso nel punto basso lavoro le cinque maglie alte 2 3 4 e 5 mi ritrovo il ventaglio salto il primo il secondo punto alto nel terzo lavoro il punto basso filo sull'uncinetto nel punto basso vado a lavorare le cinque maglie alte 2 3 4 e 5 nel ventaglio salto le prime due maglie alte entro nella terza lavoro un punto basso e nel punto basso vado a lavorare le cinque maglie alte 2 3 4 e 5 procedo in questo modo terminando il giro terminato il giro procedo con il prossimo colore nel mio caso riparto di nuovo con il colore grigio inizieremo come sempre la lavorazione dal punto basso e appunto entro in qualsiasi punto basso lavoro le 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta rientro lavoro la seconda la terza la quarta la quinta e poi lavoro la sesta ora entro nella terza maglia alta quindi salto la prima la seconda la prima la seconda entro nella terza e lavoro un punto basso filo sull'uncinetto entro nel punto basso e lavoro 6 maglie alte 1 2 3 4 5 e 6 nella terza maglia alta lavoro un punto basso filo sull'uncinetto nel punto basso lavoro 6 maglie alte 2 3 4 5 e 6 nella terza maglia alta lavoro un punto basso e così dobbiamo procedere fino al termine del giro quindi nel punto basso quindi nel punto basso lavoreremo 6 maglie alte 3 4 5 e 6 e vado a lavorare un punto basso nella terza maglia alta procedo in questo modo fino al termine terminato il giro procedo lavorando il prossimo con il colore viola e quindi lavoreremo sempre nello stesso modo finché non arriviamo alla grandezza della nostra presina quindi finché non arriviamo alla grandezza desiderata lavorando sempre lavorando sempre da 6 maglie alte 7 e poi un punto basso poi lavoreremo 8 maglie alte un punto basso 9 maglie alte un punto basso insomma procediamo in questo modo finché non arriviamo alla la grandezza che ci serve quindi inizio la lavorazione come sempre partendo dal punto basso e lì lavorerò 7 maglie alte quindi lavoro le prime 3 catenelle filo sull'uncinetto lavoro la seconda la terza la quarta poi lavoro la quinta la sesta e la settima lavorate le 7 maglie alte salto 12 entro nella terza e lavoro un punto basso prossimo punto basso lavoro 7 maglie alte 1 1 2 3 4 5 6 e 7 maglie alte salto 12 entro nella terza e lavoro un punto basso filo sull'uncinetto nel punto basso lavoro 7 maglie alte 2 3 4 5 5 6 e 7 maglie alte salto 12 entro nella terza e lavoro un punto basso procedo in questo modo fino al termine del giro una volta terminato il giro cambierò il colore nel mio caso andrò ad utilizzare il colore senape e lavorerò 8 maglie alte e un punto basso poi lavorerò il prossimo giro lavorando con il colore rosa dove lavorerò 9 maglie alte procedo in questo modo finché non arrivo alla larghezza che mi serve quindi alla grandezza desiderata della mia presina e poi ci rivediamo allora io ho lavorato 9 maglie alte e un punto basso ora procedo lavorando l'ultimo giro in questo modo quindi come sempre lavoro il cappio entro in un punto qualsiasi inizio sempre dal dal punto basso e vado a lavorare in questo modo una catenella rientro lavoro un punto basso ok fatto ciò procedo lavorando quindi entra direttamente nello spazio di di una maglia alta e lavoro un punto basso a rilievo prossimo punto un punto basso a rilievo prossimo punto lavoro un punto basso a rilievo prossimo punto un punto basso a rilievo prossimo punto punto basso a rilievo prossimo lavoro un punto basso a rilievo davanti prossimo un punto basso a rilievo davanti prossimo un punto basso a rilievo davanti ok ho lavorato le nuove maglie alte a punto basso a rilievo davanti mi ritrovo il punto basso e il punto basso lavoro semplicemente un punto basso fatto ciò riparto di nuovo lavorando le nove maglie basso a rilievo in questo modo procedo lavorando punto basso a rilievo in ogni maglia del giro sottostante terminate le maglie mi ritrovo qui nel punto basso nel punto basso lavoro un punto basso ora ora lavoro una serie di catenelle quindi uno due tre quattro quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici e quindici rientro nello stesso punto quindi nel punto basso e lavoro un punto bassissimo questo è il gancino diciamo della nostra presina fatto ciò procedo lavorando di nuovo le nuove maglie basse a rilievo quindi entro nel primo punto e lavoro un punto basso a rilievo prossimo punto lavoro un punto basso a rilievo e così ora dobbiamo procedere fino al termine del giro ok lavorando dei semplici punti bassi a rilievo termino il giro in questo modo e poi ci rivediamo ed una volta terminato il giro il nostro lavoro si presenta in questo modo quindi un lavoro semplice e veloce da fare io spero che questo video vi sia stato utile che vi sia piaciuto se è così vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina a lasciarmi un like e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video tutorial ciao 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 ciao